Hashtag noi amiamo gli animali. Rimuovere le macchie di urina dal tappeto. Consigli utili. Può capitare che in vostra assenza, fido o micio facciano pipì sul vostro tappeto e il problema è più complicato se questo spiacevole incidente accade sulla moquette. Che si tratti di una macchia vecchia o nuova, noi abbiamo il rimedio giusto. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a quattro zampe scopriremo insieme come rimuovere l'urina degli animali dai tappeti. Se la pipì del nostro amico peloso è ancora fresca bisogna munirsi di un panno umido e lasciarlo agire sulla macchia con sopra un peso per almeno 10 minuti. Se invece la macchia di urina è vecchia il procedimento è lo stesso ma è importante che lo straccio sia più grande della macchia in modo da coprirne bene anche i contorni. Dopo aver rimosso il panno è necessario bagnare la macchia con acqua fredda partendo dal contorno della macchia fino ad arrivare al centro così da non espanderla. Dopo aver tamponato per qualche minuto bisogna spruzzare un detergente a base di enzimi in grado di eliminare i composti chimici e l'odore della pipì del tuo animale domestico. Questo prodotto è facilmente trovabile nei negozi di animali ma è possibile prepararlo anche in casa con zucchero di canna acqua e bucce di arancia. Appoggiate un panno pulito sul prodotto che avete cosparso sulla macchia e tenetelo sempre con un peso sopra per una notte intera. Vedrete che al mattino seguente sia la macchia che il cattivo odore saranno spariti. Per questo video è proprio tutto. Se volete saperne di più su come eliminare l'urina dai tappeti cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo. Volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E voi siete riusciti a pulire il vostro tappeto? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi un video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!